Allora, oggi Ambrosetti ha descritto i dati economici degli ultimi dieci anni e devo dire sono dati straordinari per la Puglia, nei quali non solo il PIL è cresciuto il doppio che è in Italia, è cresciuta l'occupazione, sono cresciuti i punti di forza del sistema industriale, sociale, è diminuita fortemente la criminalità e tutti questi elementi adesso ci portano a fare l'elenco delle cose che dobbiamo migliorare. Tra queste sicuramente dobbiamo favorire l'accorpamento delle imprese per aumentare la loro massa critica, perché le imprese troppo piccole rischiano poi di avere difficoltà e soprattutto migliorare ulteriormente la lotta a quello che si chiama il Puglia Sounding, cioè l'utilizzo fuori dalla Puglia nel mondo di prodotti fingendo che siano pugliesi. Non è facile, bisognerà incaricare anche il governo italiano di proteggere tutti i prodotti italiani e tra questi anche quelli pugliesi. In ogni caso un'occasione molto importante e devo dire che adesso al di là di ogni considerazione, il fatto che questi dieci anni coincidano con la mia amministrazione mi ha dato una grande felicità. Credo di essere stato un presidente fortunato ad avere accanto dei pugliesi straordinari che hanno conseguito risultati così importanti.